Siamo quasi arrivati Stiamo cercando la spiaggia Siamo arrivati qua in Brusa L'accesso o la spiaggia? La spiaggia è la Stiamo cercando un accesso Qua c'è la stradina qua Vediamo se incontriamo qualcuno Sento un buon sar laggiù Anch'io E se noi andassimo di qua? Ci sono i boy scout Andiamo 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 E dicono Girano voci Che ce l'abbiamo fatta Forse Solo gira le voci Non sta ferme No Gira Solo gira le voci Non sta ferme Non sta ferme le voci Non c'è l'albero qua Albero Potremmo Potremmo arrivare a grado per di qua eh Attenzione Per adesso nessun segnale della spiaggia Finalmente Siamo arrivati in spiaggia Questa è la spiaggia della Brussa In Russia Siamo in Russia In Brussa Una spiaggia lunga Stesa Siamo in Russia Siamo in Russia E' la spiaggia lunga Po tremmaso Grazie a tutti Buongiorno Ah buongiorno Dopo facciamo che la foto Tutto bene? Ben svegliati? Sì ben svegliati adesso si sa Stiamo caffettando Caffettando Tempo è un po' migliorato rispetto a questa mattina Ma adesso miglioro ancora di più perché oggi sarà una giornata stupenda Senza altro Esatto Ho dormito bene qua in Brussa allora Ho dormito bene in Brussa molto bene Sì? Io alle 7 avevo già quei vicini col cane Wuh 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 Che giocavano Sì 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 Buongiorno Buongiorno Ciao Eccoci qua in spiaggia finalmente Finalmente al mare Siamo in spiaggia della Brussa Sì A follato Potete vedere sì c'è tanta gente Sì oggi molto a follato Guardate che bel mare Il mare qua è veramente bello sì non è male non è male Rispetto a grado Eh sì assolutamente bello 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 Bella giornata Bella Sì un po' Con uvoloso No non è l'uvoloso Un po' foschia però vabbè Però insomma Se si guarda di là Si riuscire a vedere caurle Sì caurle Sì caurle giù in fondo là Vediamo se ci vedete qualcosa Sì laggiù c'è caurle Invece dall'altra parte c'è Bibione Dall'altra parte c'è Ma non si vede tantissimo No Dalla parte c'è Bibione Si vede qualcosa giù in fondo là Ma non si vede granché Bene Comunque molto bene Molto bene È consigliatissima comunque l'area di sosta Si Attaccata alla spiaggia 10 euro al giorno 10 euro 24 ore no? Si si Bene bene Si può tirare fuori tendalino Si Un po' Ci sono anche delle docce Dei bagni Se volendo E anche un paio di Dorare che è Si Dei chioschi Un bar e un chiosco Si 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 Un panino E anche un banchetto della frutta Si vero vero Frutta del posto qua no? Frutta e verdura Esatto Bene Adotto Piano 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 Fine Fine Siamo verso la fine no? Si Tanta gente è già andata via Piano piano si giunge al termine Si Ancora presto Però tanta gente è già sparita qua E' già vuoto E' già vuoto Si 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 adesso veramente è abbastanza vuoto Quindi dopo un ottimo aperitivo Si Laggiù Laggiù che c'è Nostro amico Si Non abbiamo chiesto il nome però Eh Malen Chiederemo Comunque c'è un localino Niente male Prezzi buoni anche Fanno bene da bere Simpaticissimi Simpaticissimi Bella musica Si Simpatici tutto si Eh Pian piano ci Adesso si Ci prepariamo Mettiamo qualcosa no? Facciamo un po' di cena qualcosa Cosa Ci manca Già che mettono via loro Lì Verso casa Si Pian piano dai Con calma Si con calma Non ci corre dietro nessuno no? No no mai Tranquilli Ciao